Siamo con Carlos, 49 anni dalla Spagna, Malaga, siamo qui alla Rabina Imperia, l'abbiamo incontrato per caso perché grazie a una segnalazione di nostri lettori abbiamo scoperto questo mezzo molto particolare parcheggiato qui e quindi siamo venuti a conoscerlo e ci stava raccontando la sua storia in giro per il mondo. Quando hai iniziato il tuo trip? Ho iniziato 12 anni fa, ho iniziato con la bicicletta, ho in Italia, Milano, ora ho 77 paesi che ho visitato. Allora il mondo, voglio mostrarvi il mapa. Il mapa è iniziato qui, l'inizio è in Europa, dopo qui, a Turki, Egipcia, Russia, Mongolia, Cina, Malasia, America, qui c'è un porto di volto, qui tutto per la piazza. 12 anni fa? 12 anni. 12 anni. Questo ha un motore elettrico e il gasolino. E c'è anche un solare e un eolico. Normalmente non ha potuto, non ha più potuto per il gasolino. Qui ho alcune foto prima, in Peru, in Chile, Argentina, Sri Lanka, Beirut, Jordania… Perché hai visitato? Si, ho visitato. Quindi, perché hai deciso di cominciare? Beh, prima mia vita era la stessa delle altre persone, lavorando, restaurante, bla bla bla, television… Sono… Uno giorno sono aprendo la meditazione… Una delle sue, qualche paure. deffusate che ha ry+, sono una grande persona che miosa dicono… … locione… una tr medicationsione! inside say wow let's go that what I do here sell that my house car everything and live starting bicycle and four years ago make a day well another this this is from Málaga another in America in Peru and make it a big one like a caracol how do you say in Italian the matter when you ever inside what did your family said nothing but they were worried maybe you're sad no because they were very child and they know me day I can explain in English escapade escapade de la escuela see no no don't lie don't lie they 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 control how do you survive I have no say come le llaman the people donation yeah no risk but of happy Felice do you have some problems maybe we call it nowadays when the coffee a affect other people when the people is thinking in but I'm afraid everything but but when you are happy in the morning haha in India in some part in part of the India a day in the the grand place every abrazos happy no copy it's incredible this I don't know in English sistema immunological immunitario when you know happy down but you're happy every day like this the copy no effect it's incredible but it is believe have you ever been stopped by the police no no the the police when normally you see like this never very strange that you see the like this in the road the police the police see me wow picture and they happy 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 the life for this you know it's mysterious mysterious do you have a dream for the future or you never think about it thinking in future infusion infusion in pass I normally the mind the mente a mente a want to go to past or future no 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 now you live in now because tomorrow you don't you don't know what happened now where are you going after imperia I'm going to south of Italy and crossing both to Albania have you ever been in imperia before today yeah maybe 15 years ago I cross pro pero in car you miss your family 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 in the world I have singing every country in todo el mundo todo mundo felice molto felices for every people good luck to the other person ciao ciao